Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! Sì l'onore è uscerto State? C'è l'unico, quindi l'onore è uscerto. Ho questo, ma inizio! Ma, non c'è il bisogno di unірile edificio. Ma c'è l'unico che ci si manda? Ma c'è il bisogno di che. Non c'è questo! Si è così! Ci sono sempre qui! Perché è stato un'immagine? Non... Non... C'è stato? C'è stato un'imagine? C'è stato un'imagine? C'è stato un'imagine? Ci sono... Siamais Un Edward Il C'è stato un'imagine? Un interno Sì 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 Chò, stai è Sì 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 sì, non ha bisogno di noi. Chani di tutti. Ma se, immaginante, ma se, ma se. Ma se, ancora, verrata? Sì 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 sì. Sì sì sì. Sì sì. Sì sì sì. e da le gambele nasce suco san gassi suco a oって呼ばれてるから cishu suon o oteyai no topo deしょ oって言われてる epparso eちゃんとっかなぁ俺の目にもっているよ 空前もその boomer cisco san to ii spon ですねえ10日までに合わせたら sono 10 qui ci va noったら終わるだろうけどさ 19日まで 17 18 19 Sì 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 Pagano, pagano, pagano. Sì E, e che... per chi... Eh, è... Stai... No, cosa vuoi... Ma... E, si... Dopo di andare... E, ho... E, er, è... E, er, è, è... E, ma, iniqui, ma... Le ho sentite... E, è, per... E, sono... E, sono... C'è... Ma... dire che non la rosa. Non è quello che vuole diciamo? Non è uno. Non è nulla. Lui che ci sta quello, non è meglio. Si, se stavano. J'essi cresano, fai sempre! Non è il tutto tuo lato, al lato. Non è possibile! Non è possibile. Non è possibile. Non è possibile. Non è possibile. Ma non è possibile. Non è possibile. Poi! C'è andata! Poi! 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 Sì, 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 sì. Ma che il giro. Ma che il giro. Non è venuto. Non è venuto. Noi! Oh! Beppa da ne, questo. 1! Sì, noc. Sì, noc. Uè, di tec. Uè, di tec. Sì, noc. Ma, ma è ancora beppa. 25 Uhr, buongi ama. Uè! Uè, è essencial. Ma e, merh30. Nonò ne va. Un ora, il viro, il viro io. 6 or différence. Stai 104, 2 oltari traelti Chu. Questo mi neighbouri. Chutek rendering. Sì così mi piace non semplice non sono mai quindi mi piace molto piaci il video si è detto che è stato un punto di più se si è stato un'impeccato però gli è stato un'impeccato niente che si è stato un'impeccato 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 Noi noi dai ma Eh? Chino宮,ルナ Eh? Sì? Chino mia cheeteraじゃない? Chino mia cheetera Quattro cheetera? Chino con Chino con Ahhhh! Eh? 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 Chino con Tattie please Tattie se è molto semplice Ahah! E? Noi? Ahah! Eh? Si è piaciuto? Si è piaciuto Si è piaciuto ... ... ... ... ... ... ... ...